Vai, svegliamo perché siamo qui a Milano. Allora, stiamo facendo storie da un po' di giorni che siamo qui a Milano, tutti i luoghi comuni di Milano. Poi ci dite voi se sono veri o non sono veri, però vi vogliamo dire perché siamo a Milano. Svegliamo? Siamo qui a Milano per... Onolulu. 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 È facile. Come si dice? Onolulu. Vabbè, nel frattempo io imparo il nome di questo programma. Noi siamo in onda domani, cioè mercoledì, ore 21 e 20 su Italia 1, ospiti a Onolulu. 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 Vabbè, voi seguiteci. Vabbè, voi seguiteci. Vabbè, voi seguiteci. Commentateci, fateci sapere. Siamo emozionati, Italia 1. Oh. Italia 1, capite? Tu hai Italia 1? Io. Oh. Ma a me mi cancellano poi. Bossa produzione. Italia 1, 21 e 20, Onolulu. Vi aspettiamo.